Ottava in programma, premio Banco di Napoli, si chiude con una 4 anni sul miglio, non corrono Plebiscito e Paladino Ralla, sono 11 al Bia, l'uroposedone MN guidato da Francesco Fiore anziché Gennaro Tufano, fuori corsa Prescilla Trio, praticamente a 200 neri dalla macchina, 3-23 Parisi NMN chiude, favorito. Allo stacco, Petra della Cava, prende il comando nei confronti di Palisander, veloce Piper B dalla seconda fila che prova ad infilarsi, allargo Pato KG. 200 iniziali in 14,3 da parte di Petra della Cava, che guida su Palisander per linee esterne il Pato KG, poi Piper B e Pinto Ricchio, Bip si affaccia subito, Palisander dopo 400 metri nell'ordine del 30. Palisander chiede strada a Petra della Cava, la ottiene dopo 500 metri di corsa, metterà la testa in terza corsia, Pinto Ricchio, Bip con maggior convinzione, va ad aggirare Pato KG, 45, primi 6, ha avuto problemi, Parisi NMN che insegue nelle retrovie insieme a Perfect Crime. Si va sulla seconda curva con Palisander, battistrada, mezzo miglio in 1,1. In seconda posizione Petra della Cava, in schiena Piper B, allargo Pinto Ricchio, Bip, poi perimetro Barra che tenta la risalita. L'errore di Poseidone MN dopo un chilometro in 1,16,8, 31,8 e 400. Palisander, Pinto Ricchio, Bip che sopravanza Petra della Cava, poi Piper B, perimetro Barra, 400 alla termine, Palisander in evidenza, 14,8 l'ultima frazione, Pinto Ricchio, lunghezza e mezza, poi Piper B che sopravanza Petra della Cava. Quando i cavalli sono a metà e anche oltre la piegata conclusiva, rinviene a centropista anche il numero 12 di Prunella. Quando sbaglia Pinto Ricchio, Bip all'ingresso della direttura, Palisander in evidenza nei confronti di Prunella e Perimetro Barra. Palisander non si lascia avvicinare, viene a vincere davanti a Perimetro Barra che termina in linea con Prunella. 2,2,5, 38, gli ultimi 4, 1,16,5. La media al chilometro, Palisander con Sergio Bellitti sfila. Dopo mezzo giro, porta a spasso la compagnia, lunga, con decisione nel tratto conclusivo si afferma nettamente. Mentre per quanto riguarda la miglior piazza dobbiamo rivedere le immagini perché Prunella proprio sul filo. Rimonta Perimetro Barra, 3 al primo posto, il 7 è squalificato, Prunella numero 12 copre completamente il numero 11 Perimetro Barra. Probabilmente ci sarà la fotografia per il secondo, 3, 12,11 o 3,11,12. L'arrivo comunque ufficioso, il 12 Prunella batte Perimetro Barra, 3,12,11 dunque l'arrivo dell'ottava, vince Palisander con Sergio Bellitti.